Ho deciso di realizzare il mio primo best off perché in questo momento ho inattivo 5 album e credo che i tempi siano maturi per una raccolta delle mie canzoni più significative, diciamo quelle che hanno segnato la mia carriera artistica. Questa raccolta comprende 16 brani, due dei quali sono inediti e si intitolano Il ritorno da te e Una storia che vale. A mio avviso ciò che rende l'album interessante per il mio pubblico e in particolar modo per i miei fan saranno sicuramente i rifacimenti di quattro canzoni per me in qualche modo storiche che sono La solitudine, Non c'è, Strani amori e Gente. Sono rivisitate in chiave un po' diversa rispetto all'originale quindi anche un po' più moderne. Ho voluto inserire inoltre One More Time, che è una canzone che ho registrato nel 99 per la corona sonora del film Messaging a Bottle, scritta da Richard Marx ed era prodotta da David Foster. Questa canzone non è mai stata inserita in nessuno dei miei album, quindi mi sembrata l'occasione giusta per farlo. L'album è una sorta di viaggio musicale attraverso la mia vita di cantante interprete, anche se poi più avanti sono diventata autrice, è iniziato nel 93, quindi otto anni fa, ma che rappresentano tutta una vita per me. Reincidere canzoni come La solitudine, Strani amori, Gente, è stata un'esperienza a dir poco emozionante. E' stato come tornare indietro nel tempo, ricordare le paure, le incertezze di allora, ma assaporare di nuovo queste grandi emozioni. E' stato anche un po' come rivisitare la casa della propria infanzia dopo una lunga assenza, così familiare e allo stesso tempo così diversa, perché è vista logicamente con occhi nuovi. Ho voluto dare un'impronta un po' diversa alle canzoni del mio primo periodo, anche perché nel frattempo, logicamente, io sono cresciuta. Quando ho iniziato ero una teenager e chiaramente le mie canzoni rispecchiavano il mio modo di essere e di sentire di allora. Ora sono più matura per età e per esperienza di vita e anche la mia musica ha seguito lo stesso percorso. Quindi gli arrangiamenti delle canzoni, le quattro canzoni rifatte, sono assolutamente nuovi e non ripercorrono gli schemi originali. Per esempio con Non C'è abbiamo cercato di fare una versione un po' più dance, forse pop dance è la definizione giusta. La voglia di cambiare il registro a certe canzoni non è data però dal desiderio di rinnovarmi fino a se stesso. È solo il mostrare una delle mie facce che a 18 anni non avrei usato mettere a nudo. C'è un ospite davvero prestigioso che mi ha onorato con la sua presenza, si chiama Gilberto Gil. Da un bel po' di anni segue la musica brasiliana e ammiro tutto quello che Gilberto ha fatto. Ho pensato di proporgli di cantare con me Se Ami Sai, una canzone che avevo scritto nel 1996 e che ritenevo molto vicina sia al mio stile che a quello di Gilberto. Così lui ha tradotto questa canzone in portoghese e ci siamo ritrovati a cantarla insieme. E devo dire che è stata veramente una grande emozione, un'esperienza indimenticabile. Se ami sai quando tutto finisce, se ami sai come un brivido triste, come in un film dalle scene già viste, che se ne va, oh no. Se ami sai quando tutto finisce, se ami sai come un brivido triste, come un brivido triste. Questa raccolta si intitola Il ritorno da te. La musica è di Daniel, un giovane artista e autore che io ammiro particolarmente per la sua freschezza e la sua non contaminazione. Lui è croato, oggi vive in Italia e avevo già lavorato in passato insieme a lui. Il testo è mio e di Cheope e questa canzone è la storia di una persona che si rende conto di aver sbagliato e vuole un'altra possibilità. Il secondo singolo si chiama Una storia che vale e la musica è scritta sempre da Daniel e il testo è sempre mio e di Cheope. Il video di Ritorno da te l'abbiamo registrato a Los Angeles con la produzione di Angel Film. È un video molto particolare perché è stato girato da Gabriele Muccino e tra l'altro mi ricordo quando lui mi ha spiegato come voleva girare questo video. Io credo che sia come una specie di cortometraggio visto che è una storia, è come un piccolo film. Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui, logicamente. L'ho scelto anche perché andando a vedere l'ultimo bacio mi ero completamente ritrovata in alcune delle storie che lui aveva raccontato. Così l'ho contattato ed è stato molto simpatico anche il modo in cui ci siamo conosciuti davanti a un piatto di cucina giapponese a Milano dove lui con tutta la sua energia mi ha raccontato a parole quello che potrete vedere presto. Il mio tempo di lavoro è quello di sempre. Quindi ormai è collaudatissimo e più che un team di lavoro lo chiamerei un gruppo di amici che amano stare insieme, che insieme amano fare musica. Credo che lavorare in armonia sia la condizione necessaria per tutti noi per avere buoni risultati. Quindi al mio fianco c'è Dado Parisini senza il quale artisticamente non potrei vivere e invece di produttore artistico. Poi Alfredo Cerruti in qualità di produttore esecutivo e manager. Gli stessi tecnici, John Jacobs, Luca Vignardi, Max Costa e tanti musicisti che in questi otto anni mi hanno accompagnata. Quest'anno c'è una piccola novità tra questi musicisti perché su una canzone, su non c'è, il basso è suonato da Neck. L'ennesima conferma che oltre ad essere uno dei miei più grandi amici è un grandissimo artista che è capace di scrivere, come di suonare, come di cantare con una voce straordinaria. In questo caso è un musicista, nella mia canzone non c'è. Abbiamo registrato questo disco tra Milano e Bologna. A Bologna Cereso Valli ha riarrangiato la solitudine e gente, mentre gli inediti, le altre canzoni e i mix sono stati fatti qui, a Capri. A Bologna Cereso Valli ha riassato la solitudine e la solitudine e la solitudine e la solitudine. Grazie. Grazie.